All'Italia oggi sta isolando di fatto Trieste, l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia Trieste Airport, negando i collegamenti con Roma e con Milano. Questo è un danno inimmaginabile al territorio della nostra città, che ricorda sede di importanti compagnie assicurative, di enti pubblici, ma anche di imprese che quotidianamente si spostano. Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, non ci sta e sottolinea una volta di più le scelte forsennate dell'ex compagnia di bandiera nei confronti di Ronchi, scelte che riguardano anche il comparto turistico, già in ginocchio in seguito all'emergenza sanitaria. L'altro ieri gli albergatori hanno lamentato questa situazione e a fronte dei 10,5 miliardi che l'Italia ha avuto dal 2017 ad oggi, dei 3 miliardi che sono previsti nel decreto rilancio, oltre a altri contributi dallo Stato, questa compagnia non si può permettere di danneggiare il Friuli Venezia Giulia. Polacco, pertanto, non è rimasto con le mani in mano. Forza Italia, con la maggioranza, ha presentato una mozione per chiedere che il governo si attivi per ripristinare le rotte su Roma e Milano, affinché veramente un territorio che comunque ha saputo reagire bene a questa crisi pandemica non venga invece danneggiato per scelte aziendali irresponsabili. Fra l'altro, sottolinea l'esponente forzista, all'Italia non può giustificare il suo comportamento accusando l'aeroporto di non averla secondata. Il management dell'aeroporto invece nel nostro aeroporto è sempre venuto incontro alla compagnia, non ci sono alibi, non ci si può mascherare dietro a queste situazioni per creare poi dei disagi enormi. Ricordo che tutti i vettori che collegavano Trieste con Roma nel numero di 3 all'andata e 3 a ritorno erano sempre pieni, questo perché il territorio ha bisogno di essere collegato con Alitalia su Roma e Milano.